Ciao a tutti, intanto è una giornata bellissima, ha detto bene Giovanni, sarebbe stata bella che ci fosse la pioggia perché la voglia di libertà che si respira in questo parco bellissimo in cui ci ha portato Luigi è qualcosa di strepitoso. La voglia che abbiamo sentito parlando con la nostra gente da Bolzano alla Sicilia è stata quella che dice quando arriviamo, quando cominciamo. Oggi finalmente cominciamo un'esperienza nuova che deve dare a tutti noi speranza, voglia di fare la possibilità a tutti noi di vincere. Guardate la nostra esperienza, questa idea è nata un pomeriggio ero a casa con Luigi e ci siamo detti cosa potevamo fare, non per noi stessi, ci siamo detti cosa possiamo fare era nato il governo Draghi per il nostro paese che tutti amiamo e per tutti gli amici e io potrei citarne qua oggi perché è rappresentata davvero tutta Italia oggi. La risposta che è stata e vi voglio dire e vorrei farvi un grande applauso, un grande grazie, è stata eccezionale da parte vostra. Abbiamo ricevuto mail da tutta Italia, persone che ancora ieri volevano venire, qualcuno non era pronto per venire per condizioni diciamo sanitarie ma la voglia di esserci è quella che ci siamo trovati quel pomeriggio parlando, abbiamo detto abbiamo tanti amici che vogliono ancora esserci e non riescono più a esserci, ha detto bene Giovanni non riescono più a esserci e abbiamo detto quella sera, quel pomeriggio in una lunga chiacchierata, chiamiamo Giovanni, ci è venuto naturale e con Giovanni sapevamo che trovavamo Gaetano, sapevamo che trovavamo Paolo, che sono amici eccezionali di grande esperienza politica e che avevano vissuto lo stesso sentiment che stavamo vivendo noi quel pomeriggio, mai contro qualcuno ma sempre per fare qualcosa, diceva bene prima Giovanni, permettetemi se faccio qualche nome qualcuno lo dimentico e tornando a Roma sono andato da Stefano, non cito i cognomi, sono andato da Micaela, sono andato da Martina, sono andato da Marco, da Raffaele, da Maurizio, da Cosimo, Cosimo parlava di calcio, Cosimo che è il presidente della Lega Nazionale di rettanti calcio mi ha detto Marco ma facciamo squadra, si facciamo squadra Cosimo perché andiamo a vincere solo se facciamo squadra e gli parlavo di questo mio amico imprenditore e mi dice mi dici chi è, a un certo punto pomeriggio mi ha detto c'è una squadra di calcio, dico no gli ho fatto, basket Brugnaro mi ha detto, si basket Brugnaro gli ho detto e allora abbiamo deciso, e allora abbiamo deciso di partire tutti insieme e guardate che neanche Conte ha fatto un gruppo né alla Camera né al Senato e aveva da offrire ministeri e sottosegretari, noi non abbiamo offerto posti, non stiamo facendo una battaglia di posti, noi stiamo facendo una battaglia, diceva bene Giovanni, di valori e di idee e in questa strada francamente io che fino ad oggi avevo, chi di noi è stato in altre case, non potevamo trovare amici migliori, degli amici che ho citato prima, che sono qua, che sono i fondatori di tutti i parlamentari, dei deputati, di tutti voi, i consiglieri comunali, i semplici iscritti, i consiglieri regionali, siamo tutti importanti, io un po' di spogliatoio lo conosco, in spogliatoio si può anche litigare, ho avuto la fortuna di vincere le Olimpiadi, si può anche litigare, poi fuori è un muro, siamo uniti, gli avversari non sono mai nemici, ma gli avversari non sono qua dentro, gli avversari sono tutti fuori e noi vinceremo se saremo tutti uniti e raggiungeremo risultati, e raggiungeremo risultati, prima sono entrata, mi è venuto vicino una persona e mi ha detto, ma come fate il 20%, facciamo il 20%, mi ha detto, e io gli ho detto, perché Brugnaro ha detto 20%, e vuol dire che oggi è una giornata che giù, perché di solito diciamo 30%, ma no, ma lo dico ridendo, noi non ci poniamo limiti, sappiamo che bisogna rimboccarsi le mani, che nella vita nessuno ti regala nulla, e nulla nasce se non con l'impegno, e faceva bene prima sempre Giovanni a ricordare la squadra di calcio, tutto nasce con l'impegno quotidiano, ogni giorno in cui non ci impegniamo gli altri fanno un passo avanti, noi vogliamo correre veloci per dare a tutti voi la possibilità e la soddisfazione di raggiungere i risultati che meritate, per farlo serve coraggio, servono questi capitani coraggiosi, e allora Coraggio Italia, un abbraccio a tutti e grazie della possibilità che tutti insieme avete dato a me e a tutti i miei amici, i nostri amici, grazie.